Il Rebbe precedente racconta così. Mio padre, il Rebbe Rashab, una volta proclamato in mezzo a una riunione chassilica, ha proclamato così. Esattamente come un ebreo è obbligato a mettere tefillin ogni giorno. E questa è una mizvah biblica, non ci piove. Per quale ogni ebreo sia un ebreo semplice o un ebreo molto colto, indipendentemente dal suo status spirituale o status intellettuale e conoscenza della Torah, tutti sono obbligati a mettere tefillin ogni giorno. Stessa cosa, ogni ebreo è obbligato a pensare, a meditare mezz'ora al giorno riguardo l'educazione dei suoi figli. E fare tutto il possibile, tutto quello che è possibile secondo le sue forze e le sue capacità. E ancora di più fare quello a di sopra le tue capacità, per assicurarsi e stravedere e fare in modo che i figli vadano nella strada in cui vengono educati. Dunque dobbiamo fare il nostro massimo di meditare mezz'ora al giorno sull'educazione dei suoi figli, vedere cosa hanno, cosa gli mancano, come possiamo aiutarli a apprezzare l'ebreismo, a essere ispirati dall'ebreismo, a osservare l'ebreismo nella nostra vita quotidiana. E quando uno si impegna per mezz'ora al giorno, sicuramente avrà dei risultati concreti, buoni e positivi. Shalom a tutti! Shalom a tutti!